Ogni puntata Una cagata Non per niente Ma fa la rima Pulisci belli gli occhietti Pulite, pulite Come i vitri da una finestra Comunque ho chiuso, ho detto Non lo so, volevo fare una cosa migliore Volevo dirlo in modo migliore Ma vabbè Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di Fortnite Aspettate un attimo Fortnite, o la Epic Games Più che altro Ha fatto una collaborazione con Nike In modalità creativa Adesso entriamo, bellissimo come hanno fatto inoltre La transizione Prima del caricamento Per entrare in una modalità Fai centro in centro Vai in centro e lascia parlare la tua abilità Gioca alla mat Fai centro in centro E sblocca ricompense gratuite Le prime due sfide Perché poi Gli altri staranno Fra quattro ore Ah beh, in tutte sono tredici Per ricompensa Inoltre si hanno Degli skateboard Come backpack O come dorso decorativo E poi degli spray C'è quello della banana Quello lo metterò sicuramente Quando Utilizzo Bananita Le prime due sfide Consistono nel Cambiare colore Di mille unità E poi danzare O usare Un emuto Fra due camion street food Che fra un po' Farò vedere Oh, aiuto Stavano caricando Un attimo le cose La partita Inizia a tremare Dove? Aspettate Aiuto Oh No No No, non posso salire lì No, vabbè Oh È bellissima In effetti Ah, ecco Ecco Muoviti Ok Penso di essere l'ultimo In questo momento Sto facendo abbastanza cagare Anche se sta leggermente laggando Ma proprio leggermente Ah Ok Non riuscivo a capire Madò È divertentissima Oh Mio dio Ah Cavolo Uhu No Cavolo Ho rallentato Ok Ah Troppo lento Ma qua non sono mai andato Non so bene A che punto sono arrivato Cioè In che posizione mi trovo Eh Fatto sta che ci sono tutte le cose che mi bloccano Non è difficile muoversi Questo è il fatto Ok No Ho perso troppa velocità Ah ma è vero Cavolo No Cavolo Eh Questo non me l'aspettavo per niente Ma No Incredibile Ho preso una scorciatoia Memorabile No Ho sbagliato di brutto Ok Eh Complicato Cavolo In quarta posizione O comunque c'è una cosa che devo dire Se fossi stato più attento Già da prima Nel fatto che comunque avevano quelle altre cose Come le bombe e i ballerini Sicuramente Me la sarei giocata meglio Ok Primo L'ho avuto Fantastico Bellissimo Va bene Io direi A parte Joyce Che mossa ne va a Napoli A tavoletta Fa parte del set Hang time Direi di far entrare in gara Anche lui Che ne dite Ci sta C'ha la fa elpa Il cappello Particolare Bello bello Poi lo skateboard E' nero Quindi direi di farcelo entrare Sono riuscito a fare 390 Voglio cercare di averlo In questa stessa puntata Riuscirà a fare due Sfide Per avere Almeno altre due ricompense Farò altri video Farò altri video magari Mi sta venendo in mente adesso Fare Che domani Faccio un altro video Poi non so quando lo manderò Mi manderò questi altri video Magari Vabbè Cercherò di mandarli uno Di seguito all'altro Comunque divertente Voglio cercare di Voglio cercare di Utilizzare al meglio Questi oggetti Che ci danno Ah Là ci sono gli altri Beh Per il momento Sta caricando la partita Cioè la macchia Ma Perché Ci sono di pop Cioè Pop corn E patatine Ah ma si può andare in giro Salve Ma no Pensavo si trovasse Qualcun altro lì Stavo dicendo Chi ha fatto ad entrare Quello là dentro Invece sono io E il mio riflesso Aspettate Ma è di spalle No vabbè Raga Faceva gli stessi Cioè Più o meno Faceva gli stessi Movimenti miei Allora La direzione era la stessa Solo che si trovava Di spalle A me Non era Un riflesso Fatto bene No vabbè Beh Raga No No Maledetto Ecco Questa è una fregatura Ok Ah cavolo Uhuhu Ah Oh Ecco Questo è stato Un grosso sbaglio Vai 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 Dai che non ci dimmo Una bella spinta Tutti i pali Oh Ogni gioco che faccio Becco un palo Ma becca sempre il palo Oh Ma è incredibile Eh Peccato che non so Riuscito A che punto All'ultima Porca miseria È difficilissimo Ho fatto più schifo Di prima Guardalo il mio microfono Quanto intelligente Va Guardalo Ok Il mio microfono Stava per suicidarsi Molto semplicemente Spero di non è Che non ci siano Problemi tecnici Ma non dovrebbero essercene Giustamente Ci sono tutte Ste cacchio di cose Che l'anima Loro Chiamatemi come Guarda Mi nominerò Come quello Che riusciva a beccare Tutte le cose Giovane Cioè mi sono fregato Da solo Et voilà Eccolo là Che si vuole arrampicare In bacio ai muri Un altro stile Sbloccato Backboard Rex Non l'hai salvata Cioè non l'hai salvata No io ti impicco Raga io questo lo impicco Mo ve lo dico Io questo lo impicco Raga mi sta venendo Da dire una parola Giuro Veramente Peccato che non la posso dire Che sei un bastard Non posso dirlo Non posso dirlo Ma questo La vuole finire Di Di prendere solo me No Nacus vuol risapire Fai i cavoli tuoi Oppure no Vai veloce Perché questo Non lo vuoi più vedere Eccola Arrete Arrete Mannaccia Vabbè che dico di nuovo Che voi manco L'avete vista La clip Quella di prima Vabbè Non è cambiato niente Da quanto Da questo è successo Prima Perché avevo Ero comunque arrivato Come da adesso In penultima Posizione Che ve lo dico a fare Che ve lo dico a fare Voi non potete capire Il mio Il mio Come Mi sento Frustrato proprio Dentro al mio cuore Fatto sta Che sono riuscito A sbloccare anche questo Che sono riuscito A fare cambi Il colore Di mille unità Vabbè Ho detto Volevo fare L'ultima partita Quest'ultima partita Che ho fatto Me l'ha fatto Veramente Non l'avessi fatta Sarebbe stata La cosa migliore Non avrei perso Di certo La partita Di prima Appena mi sveglio Penso Ma quale può Essere in modo migliore Per riuscire a rovinarmi Una giornata Ogni giorno Ogni minuto Ogni secondo E io riesco sempre A trovare Di modi geniale Per riuscirmi A rovinare Le giornate Le partite Le cose E quant'altro Insomma Se volete Di tutorial Nel senso Come rovinarsi La giornata Da così A così Con uno schiocco Di dita Riuscite a rovinarvi La giornata Se volete Ve li faccio Sti tutorial Sarei proprio Onorato Poi se non volete Rovinarvi Non voglio essere Responsabile Di niente Io Ma vabbè Detto ciò Io spero Che questa puntata Vi sia piaciuta A me La fine di questa puntata Non mi è piaciuta per niente Ogni puntata Una cagata Fa anche rima Non per niente Ma fa la rima Se così è stato Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se non vi è ancora fatto Ci vediamo Con le prossime puntate Quando farò Queste prossime sfide Buonanotte Salve A questo giorno A me 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 E' la luna D'allora D'allora D'allora